e davanti a me avevo un uomo nudo ero lì anch'io, sono spostato dall'altra parte si potrebbe anche evitare ecco questo è stato l'ultimo degli episodi simpatici di quella giornata volevo però anche ricordare, si ricordano i direttori e gli allenatori che gran parte di quella vittoria finale la dobbiamo a un giocatore che fu Nicola Ferrari che nel giro di vittorio fece un giro di vittorio straordinario e che ha letteralmente trascinato la squadra fino a dove siamo arrivati perché bisogna conoscere anche i meriti ai giocatori e poi era cominciato malissimo per lui perché a Verona non voleva da avere nessuno poi con la volontà e l'altro aneddoto ho passato nel gennaio del mercato a offrirlo tutte le squadre d'Italia perché pensavano tutti che non dovesse essere confermato lì quindi è rimasto e guarda la vita com'è è diventato poi quello che veramente ha crescinato la squadra alla vittoria grazie